Oggi è giovedì 16 aprile 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 16 aprile 1956. Entra in commercio negli Stati Uniti un apparecchio innovativo. È stato presentato alla stampa solo pochi mesi prima, il 16 gennaio. A idearlo sono due ingegneri della General Electrics, Edward Kenyonian e James O'Hearn. Si tratta del primo ricevitore radio alimentato da energia solare. La radio è alimentata dalla luce del sole. Di giorno quindi può funzionare ricaricando le batterie e esponendola alla luce solare. La carica permette all'apparecchio di funzionare anche di notte. Al buio ha un'autonomia di 500 ore. La radio nasce come frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, grazie a diverse ricerche indipendenti che nascono dalla scoperta, da parte di alcuni scienziati, delle radiazioni elettromagnetiche. Le onde radio che possono essere intercettate da appositi strumenti. All'inizio si guarda a esse come mera curiosità scientifica, senza pensare a risvolti pratici. Per questo ci vogliono gli studi del russo Aleksandr Stepanovich Popov e dell'italiano Guglielmo Marconi. Fino a quando, il 5 marzo 1896, Marconi presenta la richiesta per brevettare il proprio telegrafo senza fili, precedendo di qualche settimana con il suo prototipo la prima trasmissione radio di Popov. L'importanza del primo wireless al mondo, come è quello realizzato da Marconi, in un luogo inaccessibile al telegrafo con i fili, come il mare, è scoperta il 14 aprile 1912, con la tragedia del Titanic. Quando, dopo lo scontro con l'iceberg, il capitano Edward Smith si rende conto che il transatlantico affonderà nel giro di un paio d'ore, chiede ai telegrafisti di bordo, due giovani dipendenti dell'azienda di Marconi incaricati di trasmettere ai conoscenti a terra i messaggi di saluto dei passeggeri, di usare il telegrafo per lanciare l'SOS, segnale di soccorso poco conosciuto il cui uso comincerà a diffondersi proprio a causa del naufragio. A un'ora di distanza si trova il Californian, che potrebbe quindi salvare tutti i naufraghi, ma ha il suo impianto spento. Il segnale viene raccolto dal Carpazia, ma può giungere alla massima velocità solo dopo quattro ore. L'obbligo per le navi di avere impianti radio a bordo e sempre accesi nasce da questa tragedia. Pochi giorni dopo, i superstiti giunti a New York, dove si trova Marconi, gli consegnano una targa d'oro come simbolo della loro riconoscenza. L'inventore bolognese dice commosso, vale la pena di aver vissuto per aver dato a questa gente la possibilità di essere salvata. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno, per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.